Grande fratello Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati. Se avete sentito bene dedichiamo questo V-Blog a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che si sono baciati dentro la casa del grande fratello. Da almeno un paio di giorni i due concorrenti sono realmente molto vicini infatti Beatrice Luzzi, 52 anni, aveva detto chiaramente di essere attratta dal bel calabrese Giuseppe Garibaldi che aveva replicato che è una bella donna. L'altro giorno poi Beatrice Luzzi ha ballato con Howard Schweitzer e ha chiesto a Giuseppe se fosse geloso. Continua. Grande fratello Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati. Il calabrese risponde Non rispondo, mi astengo dal rispondere, tu ti sei in gelosita che mi ha baciato Vale? Si si è messa a ridere senza rispondere. Si arriva quindi al bacio in zona bagno con gli speaker che cantavano la canzone di Rino Gaetano a mano a mano. Lei stava facendo il bagno. Lui si è avvinato e le ha dato un bacio avendo addirittura la premura di mettere una bana davanti al volto perché non si vedesse. Si è trattato per il momento solamente di un bacio a stampo, ma sicuramente stasera in puntata ne parleranno molto, specialmente Samira Lui.